Dopo un inizio di campionato entusiasmante, con due vittorie importanti, ora ci sono stati due pareggi frustranti. La prossima partita in Serie A sarà un derby contro il Napoli, che, in caso di sconfitta, potrebbe mettere molta pressione su Motta. Anche la Champions League è importante, ma non più del campionato nazionale. Ma Ceggio Motta potrebbe essere esonerato già a inizio stagione? Sono sicuro di no, è troppo presto per pensare a una cosa del genere. La dirigenza darà più tempo a Motta prima di prendere una decisione drastica come un esonero. Ricordiamo che ci sono molti volti nuovi e trovare subito la giusta combinazione non è facile. Se abbiamo avuto tanta pazienza con Allegri, perché non averla con Motta?